Io stesso mi sarò creato. Chi crea la variante? La variante è creata dalla maggiore evoluzione dell'individuo. Azzardiamo un esempio. Io vivo con una creatura una situazione di tensione. Questa situazione si aggrava tanto che io giungo a desiderare di picchiare questa creatura. Se la mia evoluzione è ancora insufficiente, io picchierò quella creatura perché non avrò variante. Se invece la mia evoluzione mi crea dei dubbi sul picchiare quella creatura, io stesso mi sarò creato la variante.